la frequenza un altro parametro che dobbiamo conoscere per poterlo scegliere nel modo corretto è indipendente se vogliamo andare su trasduttori monotono da 600 watt da un kilowatt oppure scegliamo trasduttori chirp da 1 2 3 kilowatt le regole sulla frequenza sono praticamente le stesse ma è molto importante conoscerle perché così potremmo scegliere il trasduttore giusto per quello che serve a noi abbiamo già visto nel video precedente l'importanza dell'installazione l'installazione deve essere fatta deve essere scelta in funzione del nostro tipo di barca ovviamente adesso invece vediamo che frequenze dobbiamo scegliere per le nostre esigenze quante frequenze esistono sul mercato beh le più importanti sono sicuramente due che sono i 50 kilowatt e i 200 kilowatt in realtà sui trasduttori chirp li hanno divisi non più in due segmenti ma bensin 3 abbiamo la parte low che è la parte bassa frequenza che si può sempre immaginare con i 50 kilohertz la parte alta frequenza che possiamo immaginare sui 200 kilohertz e la parte media c'è un valore che sta più o meno al centro rispetto a questi due estremi perché le frequenze sono state divise perché non si usa un'unica frequenza magari con dei cristalli montati in un certo modo in modo da soddisfare tutte le esigenze dei pescatori perché ogni frequenza ha delle caratteristiche in senso generale diciamo proprio per la fisica delle frequenze acustiche se noi utilizziamo frequenze basse saremo in grado di penetrare molto di più l'acqua quindi frequenze basse per andare molto profondo o andare semplicemente profondo a parità di energia di potenza frequenze alte per avere maggiore definizione questo è dovuto proprio alla lunghezza d'onda cioè noi non siamo in grado di definire un oggetto quando lo colpiamo col nostro impulso ultrasonico per più di quanta è la lunghezza d'onda questo vuol dire che sulle frequenze alte noi avremo una definizione più alta sui target e sulle frequenze basse una definizione meno precisa per spiegarmi meglio con un effetto con un esempio grafico se noi andiamo a vedere un banco di pesci con una bassa frequenza questi saranno molto più raggruppati in unica palla rossa lo stesso banco di pesce andato se andiamo a vederlo con una frequenza alta riusciremo magari a distinguere molto meglio i target all'interno del branco le cose però sono cambiate negli ultimi 10 15 anni con l'avvento del chirp il chirp funziona in un modo completamente diverso non sfrutta più la frequenza cioè sia alta o bassa che sia per la definizione dei target il chirp funziona con un principio leggermente diverso va a sovrapporre un treno d'onda che è uno swap che parte da una frequenza più bassa e arriva a una frequenza più alta ogni singolo ping è costruito in questo modo e tramite un'elaborazione software riesce a ricavare un picco da questo swap e questo picco è molto preciso come posizione adesso vi sto mostrando delle schermate sul mio tz t3 con la sonda b265 lh come vedete la definizione la definizione pura del target non è assolutamente scadente anche nel lato bassa frequenza le differenze che voi vedete sono determinate dalla larghezza del cono sui monotono il discorso frequenza invece è molto importante più saliamo con la frequenza più avremo una definizione alta più scendiamo con la frequenza più i target saranno meno definiti meno precisi però anche di questo parleremo un po più avanti perché in realtà quando noi andiamo a pescare molto profondo o comunque profondo avere una definizione altissima non sempre paga a volte può essere utile avere un po meno definizione ma riuscire comunque a vedere il target piuttosto che avere una definizione altissima e che dopo ci fa scomparire sulla dimensioni del nostro schermo il target stesso per farla semplice quindi dobbiamo scegliere una sonda che abbia almeno una frequenza bassa per poter andare profondi oppure una sonda con una frequenza media o alta o bassa se vogliamo stare in acque meno profonde un'altra cosa importante da sapere che riguarda proprio le frequenze che le frequenze non reagiscono tutte uguali alle turbolenze alle bollicine d'aria se noi abbiamo un problema per esempio di bollicino di turbolenza quando con la barca andiamo in planata sicuramente è molto meglio impostare una frequenza alta avere una frequenza alta perché le frequenze alte per esempio 200 kilohertz sono molto meno sensibili alle bollicine d'aria ovvio se ce ne sono veramente tante di bolle chiaramente bassa o alta frequenza il problema purtroppo c'è e non si può risolvere o meglio si dovrebbe risolvere con installazione fatta meglio ma se abbiamo delle piccole bollicine dovute a magari il passaggio di una barca davanti a noi perché siamo in scia o comunque nell'acqua ci sono delle piccole bollicine d'aria l'alta frequenza funziona molto molto meglio per questo in america hanno fatto anche sonde in alta frequenza con coni molto larghi proprio per aiutare gli angler che vanno fare train ad altura a riuscire a vedere comunque anche se sono in acqua in acque agitate dove magari le onde producono bollicine e quant'altro normalmente il discorso frequenza viene abbinato con il discorso cono di radiazione cioè il cono del nostro trasduttore però sono due cose completamente diverse è vero che normalmente tutte le sonde quando le fai lavorare una frequenza più alta il cono è più stretto quando su un trasduttore abbiamo due canali con due frequenze diverse bassa alta frequenza per esempio normalmente il canale della bassa frequenza è sempre con un cono molto più largo rispetto al canale dell'alta frequenza questa è una frequenza più alta il canale dell'altra parte dell'altra parte del corso